Primavera con i bagni di sole gratuiti sulle spiagge abruzzesi e inizio marzo è partita la stagione. A Pescara nubi all'orizzonte però per i malumori dei balneatori per il cantiere lungo la rivera sud non ancora ultimato e chi ha detto a loro metterebbe a rischio la stagione balneare. A farsi portavoce di questi balneatori è Sandro Lemme, presidente regionale turismo confartigianato che però riferisce anche novità positive sulle spiagge abruzzesi. Allora l'ordinanza balneare regionale dà la possibilità ai balneari di potersi attrezzare, preparare la spiaggia dal 2 di marzo. Praticamente dal 2 marzo al 13 ottobre l'area demaniale turistica balneare può essere utilizzata gratuitamente dai clienti. Quant'è che si paga l'ombrellone? Quando noi installiamo l'ombrellone e il cliente lo prende in consegna. Prima e dopo è gratuito. L'elioterapia. I nostri nonni facevano le cure di sole. C'è una proroga che va al di là però della data di ottobre. Allora per quanto riguarda la proroga è una proroga di una legge nazionale che ha dato possibilità ai balneari di non rimuovere le strutture mobili stagionali a poterle tenere fino al 31 diciamo 2020. Se vogliamo realizzare il mare d'inverno questa possibilità ce l'abbiamo. Non finisce qui perché lei è una fucina di iniziative. Le cosiddette fontane depurative in mare cosa sono? Sono una novità della playa. Allora ci sono delle pompe che aspirano acqua di mare, la buttano in aria e sono ornamentali perché hanno una forma di una fontana circolare col getto che va a 20 metri in altezza. Questo getto prende aria, l'acqua e si ossigena e i batteri diminuiscono e nello stesso tempo proteggono anche la spiaggia. C'è però l'onda della polemica, la nota Dolenz, questi lavori che a detta vostra non finiranno però qui alla Rivera Sud per quest'estate. No, adesso hanno messo oggi, hanno messo le barriere per iniziare un lavoro che stiamo già al 21 di marzo quando oggi devono essere riconsegnate le opere. Veramente Pescara Sud è penalizzata. Cioè chiudere Pescara Porta Nuova e non farla andare né a nord né a sud. L'AMS rivolge ai comuni di San Giovanni Teatino Pescara e anche alla tua. Perché c'è il numero 6 che è un'auto che fa un servizio da San Buceto fino a Monte Silvano passando per via Pindaro. Se la tua o i due comuni fanno arrivare questo pullman numero 6 in Piazza Le Laude o fino al Torrente Valle Lunga avremo la spiaggia di San Buceto che è la pineta d'Annunziana. Col biglietto conclude l'EM che sarà rimborsato dai balneatori.